E io mi rivolgerei al tenente Silvestri che ha preparato dei memes fatti a mano. Ah, già pronti? Salve. Pronto. Roma-Firenze, io. Ok, quello è uno svincolo che da una parte dritta c'è Roma, Firenze, io, cioè quello ma è lei, è la sua macchina e lei va a Firenze. L'ho fatta anche Dank. L'ha fatta anche? Dank. Che è questa lezione qua. Questa qua. È un meme Dank. È un meme Dank. Va bene. Grazie. Questa, ok, carino. Questo? Bellissimo gatto. Grazie. Quelle sono due ragazze che in lacrime dicono bellissimo gatto e il gatto giustamente. Grazie. Sì. E vabbè, questo è l'ultimo? Ah, ok. Questo è l'ultimo. La buona musica, i monologhi di Manuela Fanelli. Ok, quindi sopra c'è, quello che è, c'è il discambino? No, è Fifty Sense. È Fifty Sense. Così non gli piace la buona musica, mentre fa a valla il fatto che ci siano i monologhi di Manuela Fanelli. Però scusa, non dovevano stare scritte? No, vanno bene così. Non andava solo per la scritta? No, no, vanno bene così. Benissimo, grazie Silvestri. Buonasera. Buonasera a lei. E parliamo di lui, il principe della risata. Sto parlando di Antonio De Curtis, Grifo, Fogas, principe di Bisanzio, Fefe, detto Totò. Totò, l'uomo che faceva ridere senza neanche mai dire degli insulti razziali o frasi omofobe. Come oggi sarebbe quasi impossibile fare. C'è un'università nel Cleveland che sta lavorando per la sua clonazione. Vediamo gli aggiornamenti dal Cleveland. Chiaramente ancora in fase di sperimentazione, ma secondo me tempo qualche mese e potremo finalmente riabbracciare e coccolare il nostro grandissimo tutorial. Vi auguro, come si suol dire, la buonanotte lasciandovi alla magica musica dei Vazzanichi. Buonanotte. F-F-Fresa's clown F-Fresa's clown